Ciao a tutti ragazzi, sono AlexC90, benvenuti in questo mio prossimo video. Oggi siamo qui appunto per, non so se sapete che il PS Plus di maggio 2018 di quest'anno ha dato come giochi Beyond 2 2 Anime e anche Raiman Legends. Oggi andiamo appunto a vedere una puntata di una, diciamo, una missione di Raiman Legends. Come potete vedere siamo qua, io questa l'ho già fatta male, la rifaccio appunto per farvi vedere il video. Andiamo a fare la missione che si titola C'era una volta. Allora, eccoci qua. Guardate che figata, è una figata assurda questo gioco. Allora, questo è per colpire. Lo saltiamo, saltiamo, questi qua li dobbiamo prendere. Questi li dobbiamo tutti prendere. Allora, il nostro scopo è quello di salvare appunto questi esseri miticurini, ma come potete vedere là in alto appunto. Ci sono delle cose per poterli vedere. Questi qua con gli occhi li dobbiamo prendere così. Così. Ok ragazzi, andiamo avanti. Questi li spacchiamo. Questo un po' così. E questi li ammazziamo tutti e due. Andiamo qua. Vedete? Qua l'avevamo già preso appunto. Entriamo qui. Ehm, no, peccato. Ok. Ok. Cerchiamo di prendere tutti. Ah, questi li ho salvati tutti. E l'abbiamo salvato uno ragazzi. Eccolo qua. E vai. Ok. Beh, figato. Ah, adesso appare, come potete vedere, ecco qua. Appare questo nostro amico che praticamente ci aiuterà. Vedete? Se io tengo più un po' il cerchio, lui ce lo manda sotto. Andiamo avanti. Ok. E gli studiamo questa. Dai, no, no. Questa ci va a me qua. No, siamo morti. Praticamente. Ho sbagliato. Perché lo vedete? Dovevo andare praticamente a liberare. A liberare questa poveraccia dentro là. Questi poveracci dentro la gare. Beh, per farlo. Lui... Ah, devo poi venire lì per tutta la mente. Ok, ragazzi. Possiamo continuare ad andare avanti. Cioè, abbiamo fatto. Ah, eh. Non ti arretta, non ti arretta, non ti arretta. Ok, lo abbiamo salvato. Per me a morire tutta la mente. Ok, per farlo vivere. Ok, entriamo qua dentro. Ok, per far tagliare le corde. Perfetto. Per la corda. Entriamo qua. Ok, qua dobbiamo stare atenti perché se ci colpiscono moriamo, quindi. Ok. Per farlo attivare la leva, attiviamo la leva. Andiamo qua. Ok. Buonasera, che se ne so. Ok, così, almeno. Perfetto, ragazzi. Si va avanti così come stiamo andando. Quello difficile, per esempio, per la sole. Pagliamo la corda. Qua abbiamo sbagliato, dobbiamo, dobbiamo, appunto, salvare. No, ho sbagliato di nuovo. Qua dobbiamo salvare questa nostra piccola. Ok, già abbiamo fatto. Tagliamo quella corda. Perfetto, ragazzi. Stiamo andando tutto nel show come loro. Per favore, la pataforma. Ok. Ok. E qui qua ci siamo. E facciamo girare la ruota, quindi facciamo girare la ruota. Quindi facciamo girare la ruota. Saliamo. Allora, qua giù. Ho visto che c'è qualcosa altro, quindi torniamo qua. Ok. Anche qua. Quindi qua ci arrabbicchiamo. E facciamo girare la ruota. La nostra amica. La nostra amica. Perfetto. E facciamo leggere la ruota. Ci facciamo andare qua su. Si va qua su. Ok. Facciamo così. Tac, tac. E niente. Non c'è nient'altro da fare qua. E ce ne possiamo andare. Beh. Allora. Tagliamo qua. Ok. E niente. Qua ci possiamo mollare. Perfetto. Scendiamo qua con questa. Andiamo qua. Ok ragazzi. Questo è fatto. Infatti mi stavo chiedendo come è possibile perché il tipo non mi portava qua dietro. Ok. Adesso ci spostiamo. Stanno attenti sempre i fantasmi. Ci avviciniamo a quello. Ok. E' abbastanza rischioso da questa missione. Ok. 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 Adesso salgo. Solisciano come lui. Ok. Stanno attenti. Ora facciamo fare salire. Ok ragazzi. Qua. Abbiamo terminato. Ok. Perfetto. Perfetto. Ok. E qua ci fa vedere praticamente che cosa abbiamo preso. Non siamo riusciti neanche a prendere tutti quei pupazzettini. Ma va bene. Stessa velocizza. Ok. E niente. Potremmo fare di meglio sicuramente. Ma va bene così. Bene ragazzi. Questa era appunto la prima missione di Raiman. Appunto. Che ti sottotocene una volta. Per questo è tutto ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao.